Ben trovati e bentrovate da Andrea Cartotto. Sono felice di proporvi un nuovo videocorso che è anche la nuova puntata in realtà di una rubrica presente qui sul mio canale a cui tengo molto. Parlo cioè della rubrica playlist dedicata a Panquits, una splendida risorsa per la didattica e la gamification interamente made in Italy e di cui ho il piacere di proporvi la video formazione in esclusiva per l'Italia in collaborazione con il suo ideatore e sviluppatore che è il bravo Paolo Mugnaini. Nei precedenti videocorsi dedicati a Panquits mostro come entrare e come utilizzare la risorsa ma vediamo dunque adesso come sperimentare le ultime novità introdotte da Paolo in Panquits e allora osservate ricordo almeno che entriamo in Panquits da un qualunque browser nulla da installare. Io consiglio Google Chrome o Mozilla Firefox e il sito di riferimento poi è panquits.com. Accedendo ritrovo i quiz già fatti ok? Ecco i nostri riquadri colorati. Vedete che e questa è una ipotesi che avevo proposto proprio ai colleghi in occasione di un mio corso di formazione sulla didattica digitale integrata con cui Panquits si sposa magnificamente e allora questo ipotetico quiz di esempio su Van Gogh è immaginato per la terza C. Leggete? Ma io desidero proporlo alla terza B per poi avere i risultati. Ecco allora che senza ricostruirlo, ex novo, io che cosa faccio? Clicco sui tre pallini, poi clicco su duplica, confermo naturalmente con un clic su sì e ho un quiz identico al precedente. Cosa dovrò andare a fare? Dovrò cliccare su modifica e mi basterà andare a variare la descrizione. Io clicco, vedete, posiziono il cursore e indico che non è più per la terza C ma è per la terza B. Il titolo va bene, le domande vanno bene, le parole chiave vanno bene, però cosa vado ad aggiungere? Allora intanto vado a cambiare il colore del mio riquadro perché io posso pensare, su questo vi invito a riflettere, di avere poi visivamente un colore per ciò che faccio in terza C e un colore per ciò che faccio in terza B. Se dunque l'azzurro è già utilizzato, io qui vado a cliccare e gli vado a dire ad esempio rosso. Il rosso sarà la terza B. Ma soprattutto a proposito delle migliorie, clicchiamo su opzioni aggiuntive ed ecco qui che per i vecchi quiz dobbiamo intervenire noi ma per i quiz creati ora da zero la funzione richiedi dati personali è già presente e attiva richiedendo agli alunni che cosa? Il nome e il cognome. Se io voglio richiedere al mio alunno il nome e il cognome io clicco nell'apposita riga bianca, vado a digitare nome, virgola, cognome, virgola e vi invito a leggere perché Paolo nello sviluppo ci segnala, separa i dati personali da virgole. Quindi in realtà abbiamo le indicazioni anche nell'utilizzo per generare familiarità. Alla stessa maniera il tempo massimo di svolgimento che è prevalentemente pensato per la sincrono ma vale anche in altri contesti. Se è un quiz breve ed asciutto non sarà certamente di otto ore, vedete clicco sulla tendina, sarà di ore zero e magari di minuti 20. Anzi, un quiz asciutto 15 minuti e permettetemi di aggiungere una piccola postilla. Più il quiz è strutturato a modo di compito complesso e di durata breve, minore naturalmente la possibilità che i risultati siano falsati da copiatura. Pur con il mezzo digitale sta alla nostra formulazione creare uno scalino di apprendimento per i ragazzi. Ed allora vi invito anche a lasciare la voce meno tempo aumenta il punteggio su no. Così da permetterci di avere tutta la classe allineata. Non premiamo solo la velocità di esecuzione ma premiamo in questo caso solo semmai la correttezza nella risposta. La lingua del panquiz è italiano, abbiamo la sintesi vocale, altra pregevole funzione. Confermiamo con un clic su salva. Ripeto, non ho toccato le domande e le risposte inserite. Vi mostro come sia comodo avere la colorazione per i diversi riquadri e a questo punto è tempo di svolgimento. Osservate. Clicco su assegna. Vado a scegliere in questo caso la modalità condividi. Perché la modalità condividi? Ne parlo anche nei miei videocorsi perché questa è pensata per proporre anche i panquiz in asincrono. Soprattutto altra novità introdotta in questa ultima release si dice nel gergo cioè in questa ultima versione distribuzione. C'è un comodo pulsante, un comodo link in realtà condividi su Google Classroom che permette la perfetta interazione tra panquiz e l'ambiente di restituzione di Google della G Suite perché si chiama così Classroom, ambiente di restituzione. Come faccio a svolgerlo e a farvi vedere i risultati? Come vengano archiviati e poi consultati? Guardate, io in realtà adesso clicco su questi due quadretti copia che sono qui accanto al link. Come vedete osserviamo anche l'indirizzo a cui possiamo far andare gli alunni per effettuare la verifica in altro contesto che è take.panquiz.com. Ma aggiungo anche che abbiamo la app ufficiale di panquiz da scaricare, ecco perché possiamo definire panquiz multipiattaforma, sui sistemi operativi mobili Android e sui sistemi operativi mobili Apple, dunque iOS e penso ad iPhone, iPad e così via. Allora, ho cliccato su copia? Sì, clicchiamo su chiudi. A questo punto in alto a destra in Google Chrome, clicco sui tre pallini e clicco su nuova finestra di navigazione in incognito, funzione che in più videocorsi mi avete visto utilizzare quando il docente vuole effettuare una comparazione tra il suo punto di vista e il punto di vista degli alunni. Clicco in alto nella barra degli indirizzi, con il tasto destro del mouse vado a cliccare con il tasto sinistro, guardate. Altra comodità, un piccolo trucco, subito su incolla e vai all'indirizzo, cioè ho risparmiato un invio e a questo punto guardate la verifica, così come strutturata. Conto alla rovescia a destra, sotto il mio faccione, i minuti vanno a scorrere. Informazioni personali, certo che sì. Andrea, poi vado a cliccare su cognome, cartotto. Chi desiderasse una somiglianza, a chi desiderasse avere una somiglianza in pan quiz rispetto ai moduli di Google, ad esempio, può prevedere nei dati personali anche indirizzo email come campo. Basterebbe dopo cognome, virgola, scrivere indirizzo email e poi ancora virgola. Bene, siamo pronti. Quali sono i temi principali delle opere di Van Gogh? Religiosi, astratti o paesaggi? Vabbè, diciamo paesaggi. Tra l'altro vi mostro che abbiamo la sintesi vocale sempre qui con il nostro pulsante. Leggi le domande a voce alta. Vedete? Anzi, ascoltate. Abbiamo la lettura in sintesi vocale delle domande e delle risposte. Ci sono voce maschile e voce femminile disponibili nella versione free e dunque gratuitamente qui in pan quiz. Clicchiamo su invia. Ad una o più domande non è stata data una risposta. Mi ricorda anche che prima di inviare comunque e ottenere poi un voto negativo, io clicco su annulla, mi sono emozionato, saltato qualche passaggio e vado a cliccare su quello che io desideri. Paesaggi. Questa è la mia scelta? Sì, clic su invia. Sono pronto? Sì, clic su sì, invia. Immediato feedback, cioè riscontro per l'alunno. Una esatta e zero errate. Punteggi immaginato, 10 su 10, perché, ve lo spiego nei precedenti videocorsi, possiamo impostare anche una buona e utile rubrica di valutazione. Clicchiamo su visualizza. Questo è il lato alunno, ve lo ricordo, ed ecco che abbiamo la nostra scheda personale. Bene, schiocco le dita. La nostra finestra di navigazione in incognito la vado a chiudere con X, perché a noi interessa il riscontro docente. E allora, noi qui siamo nel nostro cruscotto di Panquiz. Questo simbolino a forma di istogramma si chiama svolgimenti ed è un'altra grande novità di Panquiz. Io clicco su svolgimenti. Vediamo un pochettino cosa succede. Guardate, molto carino questo grafico, questo tachimetro, dove ci dice il punteggio medio in percentuale di oggi, di questo mese o di sempre. A colpo d'occhio, anche una bella dicitura anche in questo caso. Scorriamo ancora sotto. Guardate. L'elenco ci dice che l'alunno Andrea Cartotto, che ha iniziato il primo di febbraio 2021 alla tale ora, con stato completato ha conseguito un punteggio di 10. Queste freccine, accanto naturalmente all'uno, consentirebbero di osservare scheda per scheda l'intera classe. Ma, cosa possiamo fare? Guardate. Clic sui tre pallini. Allora, i tre pallini ci consentono di visualizzare tre opzioni che sono visualizza, scarica ed elimina. Attenti. I tre pallini ancora in alto ci permettono di dire, mostra colonne, selezione multipla, beh, ancora prima, scarica tutti. Scarica tutti. Scarica tutti. Guardate. Io faccio un click sulla freccina rivolta verso il basso. In realtà, a questo punto, io sto scaricando in formato PDF, direttamente nella cartellina dei download, nel caso del mio computer, un file riepilogativo, vado a spostare il mio simpatico faccione, intanto così vi mostro il creato con il cuore in Italia, un dettaglio voluto da Paolo, ma io lo capisco, proprio per sottolineare che, come accadde già nel caso del primo computer al mondo da tavolo con il grande Adriano Olivetti, le risorse di qualità le sappiamo produrre anche qui. Ed allora, clicchiamo un pochettino sul report, ripassiamo Van Gogh copia, guardate. Guardate come si presenta anche bene la nostra scheda. Guardate. Ripassiamo Van Gogh, occhio, copia è rimasto da prima, è una dicitura che, quando duplichiamo, possiamo andare a togliere. La data, l'ora, nome e cognome dell'alunno, risposta da lui, assegnata. Pagina 1 di 1, PanQuiz, vi debbo dire, da quando l'ho testato per la prima volta, mi ha convinto anche per la pulizia della grafica, anche in una ottica di stampa. Essendo questo un PDF, questo può essere tranquillamente custodito su Google Drive, pronto per una esibizione successiva, o comunque conservato su Drive e quindi dematerializzato per una corretta archiviazione. Clicco ora sulla X, vedete dove c'era la scheda singola, e ancora vi mostro che se invece vado sui tre pallini, quelli sotto, accanto al buon alunno Andrea Cartotto, e vado su Visualizza, pulsante a forma di occhio, abbiamo sostanzialmente, ecco che, insomma, lo vedete, c'è una grande similitudine in questo caso alla visualizzazione a alunno, vedete che c'è il riepilogo, quando è stato terminato, risposte, una domanda, una esatta e un'errata, visualizza, e qui vado a vedere tranquillamente che l'alunno Andrea Cartotto ha conseguito ed ottenuto dieci punti con risposta corretta. Clicco su Chiudi e siamo perfettamente al culmine, diciamo, della nostra gestione. Poiché Paolo ha pensato PanQuiz proprio per stimolare la curva di apprendimento e per poter magari proporre anche lo stesso PanQuiz a modo di monitoraggio, cioè con una certa costanza, io con grande piacere l'ho consigliato e lo accompagno in questo cammino che ancora non è finito, ecco, è bello che si possa nel tempo verificare con facilità che cosa è successo oggi, questa settimana, questo mese, oppure sempre. E allora, queste sono le principali novità che sono state introdotte nella ultima versione di PanQuiz. Il mio personale invito è quello di realizzare il nostro, i nostri PanQuiz per proporre a tutta la classe una attività stimolante, per esempio con le classi dotate di strumenti digitali, quindi le classi 2.0, 3.0, per proporre anche una interazione in asincrono, avete visto, con il tasto Condividi su Classroom, e insomma, per avere uno strumento gradevole, lineare, dalla grafica pulita e dai contenuti, che ci permetta sempre di mantenere con i nostri alunni un linguaggio contemporaneo e attuale. Vi sto preparando una nuova sorpresa proprio dedicata a PanQuiz, e continuate a tal proposito a seguirmi, e grazie sempre per la stima, qui sul mio canale YouTube e sui miei account social. Ancora un caro saluto da Andrea Cartotto, e a presto con PanQuiz!